Piazzo la barricata! Pino spinato in campo. Dispositivo attivato! Fuori dalla linea di tiro dell'azienda. La attacco! Ricarico l'arma! Granata! C-4 fronte! C-4! Ricarico! C-4 fronte! Granata in volo! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Brucerà parecchio! Brucerà parecchio! Coprite me ricarico! Sei in una zona controllata dal nemico! Lasciala finito! Ti hanno scoperto! Torna indietro! Ultimo attaccante rimasto in vita! Squadra d'attacco eliminata! Missione completata! Ultimo attacco parla! Clip! Let'ataccio! C-4 fronte! Troppo attacco! Absoluto! I do'ataccio! Amato! Sunt i la misi! Fim! Sunt i la misi! 事情! Tariko! Assoluto! Assoluto! Sunt i la misi! Sunt i la misi! Grazie a tutti